manca il cappellino ieri ha nevicato ragazzi oggi ha piovuto quindi la neve già non c'è più però ieri ha nevicato c'era neve era bellissimo ciao a tutti ragazzi come state? benvenuti in un nuovo video oggi sono qui per farvi vedere una compilation di magie veloci con carte oggetti e altre cose quindi iniziamo musica maestro musica maestro musica maestro musica maestro Grazie a tutti. 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 Aide, prendi eh? No, Jack, aspetta un attimo. Sapevo io. Mi tocca. Cos'è che so fare con le monete? No, non è vero. Non so fare niente. Aspetta, continuiamo con i cubi. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Questo è Simon Black, prova a farci un gioco. Allora, usiamo due re. Aspetta un attimo. Dimmi stop. Stop. Qua? Sì, mi piace. Ti faccio vedere una cosa e poi te lo farò in slow motion. Ah, ok, perfetto. Allora, per la prima volta facciamo proprio così. Cosa devo fare? Ah, ok. Questo è slow motion, è normale. Ah, cacchio. Merda. E' stata la tua carta, la di fiori? Era la mia. Allora, lo facciamo come ho promesso? Sì. In slow motion. Perfetto. Al centro. Sì, sì. Guarda. Questo è slow motion. Oh, fighissimo. Ma non era slow motion. Cacchio. Bene ragazzi, questa era la compilation. Spero vi sia piaciuta. Spero che vi siate divertiti, che abbiate visto magia flash, roba veloce, pa 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 pa. Tutte queste cose qua che vi piacciono tanto. Io sono anche qui per dirvi un paio di cose. Che mercoledì, adesso oggi è lunedì, vero? Quindi mercoledì vado via, vado in vacanza da solo, vado in mezzo ai boschi. I video ovviamente usciranno regolarmente. Dato che siamo entrati ufficialmente nel periodo natalizio, vi chiedo che tipi di giochi vorreste vedere da portare sul tavolo di Natale. Cioè, io vorrei che voi arrivate sul tavolo di Natale con un piccolo repertorio di 10-15 minuti. Voi potete intrattenere con una piccola serie di giochi che si collegano uno con l'altro. Quindi chiedo a voi un po' di idee qua sotto e vediamo che cosa si può fare, ok? Io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!